buonasera a tutti nuova intervista con franco fracassi nuovo libro ovviamente ciao franco come stai ciao questo mi dicevi è un libro sull'ucraina ovviamente mi dicevi un libro che stavi scrivendo già da dieci anni ma che naturalmente hai di cui hai accelerato la compilazione la conclusione in queste ultime settimane giusto sì 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 appena dopo che scoppiata la guerra ho deciso di scriverlo nel senso che avevi già tutto prima perché se no io mi sparo se tu riesci a fare un libro così in dieci giorni senza avere niente sotto mano io mi ammazzo proprio no diciamo che avevo tutto il materiale c'era tutto però materialmente l'ho scritto in sei giorni facendo peraltro altre cose anche vantati pure vantati pure umiliami il libro si intitola ucraina dal donbass a maidan cronache di una guerra annunciata annunciata appunto da tutti più o meno da te da giulietto chiesa da tutti quelli che seguono queste queste faccende seriamente e stranamente invece considerato come una specie di sorpresa venuta fuori dal nulla dall'uovo di pasqua come da come si è stata presentata dai dai medio occidentali comunque diciamo del della trasfigurazione di ciò che accade da parte dei medi occidentali abbiamo già parlato molto nei giorni scorsi e non c'è bisogno di tornarci sopra c'è una fase una questione invece che a me sembra poco chiarita nel nel discorso generale che vediamo che forse è utile approfondire e che tu approfondisci nel libro cioè l'ucraina noi siamo portati a considerarlo un paese compatto unico come dire l'italia la francia la germania in realtà è un paese profondamente diviso culturalmente etnicamente anche linguisticamente e ci arrivi proprio delle punte di odio fra gli estremismi da una parte gli estremismi dall'altra tu nel libro spieghi che questa sfrattura interna nasce addirittura dai tempi di stalin sì allora va chiarito che in ucraina ci sono tre gruppi etnici ben distinti da loro anche se due di questi sono sono molto simili allora il primo è costituito dai polacchi allora avete presente leopoli il viv da dove il luogo da cui si collegano in questi giorni la maggior parte dei dei cronisti è una grande città che si trova all'estremità eh occidentale dell'ucraina in una regione si chiama galizia orientale la galizia era una regione che apparteneva al all'impero austro-ungarico insomma apparteneva alla polonia e ehm eh questa eh diciamo questa regione è stata contrattata da stalin nel 1939 quando si mise accordo con hitler per la spartizione della polonia e fu annessa una regione della polonia annessa all'ucraina perché è importante questo perché non solo dei polacchi sono ritrovati improvvisamente sovietici senza nessun nessuna ragione cioè così dal nulla e non c'entrava nulla con la storia con la tradizione dell'unione sovietica a differenza dell'ucraina e perché eh sono anche eh di religione differente gli ucraini i russi sono ortodossi i polacchi sono cattolici e in quell'area sono dei cattolici fondamentalisti allora quindi hai un gruppo etnico polacco eh molto forte in una regione eh abbastanza grande del del paese questo gruppo etnico odia profondamente eh i comunisti innanzitutto perché sono loro che in qualche modo l'hanno occupato odia profondamente anche eh la russia perché c'è questa strana traslazione per cui l'unione sovietica è russia anche se stalin era georgiano notoriamente quindi non la russia diciamo in questa vicenda qui c'entra poco c'entra un georgiano e c'entra un paese eh che non faceva nessuna distinzione tra russia e ucraina e dopodiché ehm ci sono c'è il resto dell'ucraina allora il resto dell'ucraina è popolata ehm in ehm parte non nemmeno tanto piccola da russi perché allora l'ucraina ha sempre avuto una eh una storia totalmente simbiotica con la russia cioè la russia è nata in ucraina sostanzialmente sono la stessa cosa hanno la stessa cultura lo stesso modo di ragionare la stessa religione la stessa lingua addirittura è solo che che è successo che a un certo punto stalin eh negli anni venti negli anni trenta decise di eh trasformare la l'unione sovietica da paese eh quasi feudale totalmente arretrato eh con un'agricoltura anche arretrata formato però da da questi proprietari terrieri grandi e anche più piccoli che esistevano da da un po' di tempo queste piccole proprietari terrieri la diceva trasformarla in una in un grande paese moderno industriale come fanno gli imperatori cioè ha preso a un certo punto ha detto beh adesso qui mettiamo le fabbriche eh milioni di contadini che si sono trasformati sono stati urbanizzati e trasformati in operai e dopodiché questi andavano sfamati in qualche modo allora l'ucraina essendo il granaio del mondo perché non so quanti lo sanno e io questo racconto nel libro che l'ucraina produce un quarto l'intera ricchezza agricola dell'intero pianeta quindi diciamo che essendo il granaio del mondo ha detto benissimo adesso voi ucraini sfamate queste persone e visto che eh il il cibo che serve tanto noi ve lo portiamo via eh risultato eh una tremenda caressia in Ucraina perché c'erano questi contadini che morivano di fame perché producevano per eh per dare il loro cibo a altri eh alcuni milioni di morti questa cosa ha prodotto una rivolta specialmente tra i proprietari i piccoli proprietari terrieri ucraini e Stalin l'ha risolta a modo suo cioè ha detto benissimo voi eh vi rivoltate siete contro il progresso dell'Unione Sovietica io allora vi deporto li ha presi in massa e li ha deportati altrove non deportati per farli morire così perché non non è a questo il senso li ha deportati sempre in funzione della costruzione della grande eh e moderna Unione Sovietica quindi una parte le ha messe a fare dighe da una parte poi le ha messe a costruire altre cose e una parte nemmeno tanto piccola l'ha portata in Carelia la Carelia è una regione della scandinavia eh dove passa il circolo volare artico e eh Stalin ha deciso giunto di costruire un canale che collega il mar baltico al mar bianco il mar bianco il mare che sta oltre la scandinavia non so se avete presente la scandinavia è una strana forma di gatto e dietro la coda c'è un golfo quella quello il mar bianco per costruire questo canale per cui degli dei contadini ucraini sono trovati improvvisamente sbattuti nel circolo volare artico a meno venti senza senza essere particolarmente coperti senza avere strutture di ogni tipo senza avere nessun tipo di anche strutture moderne per costruire un canale cioè facendolo proprio con le mani nude come si facevano nei secoli passati e e e l'hanno fatto per due per due anni questo canale morendo anche qui a migliaia a centinaia di migliaia risultato di tutto quanto questo quando i nazisti invadono l'unione sovietica eh i polacchi della galizia orientale e una parte degli ucraini cioè quelli diciamo che si erano sentiti eh umiliati da stalin si alleano con l'invasore cioè diventano collaborazionisti dei nazisti e si sviluppa questo nazionalismo ucraino che non aveva ragione d'essere fino a quel momento lì perché appunto ghina russia sono la stessa cosa e eh si crea una divisione delle ss ucraina una delle divisioni delle ss polacca una delle divisioni delle ss dei cosacchi perché anche loro sono stati molto penalizzati a stalin e costoro fanno delle cose spaventose durante la seconda guerra mondiale cioè l'unico periodo in cui l'ucraina è esistita nella storia è stata dal 41 al 44 in cui si è creato questa sorta di protettorato sotto i nazisti eh gestita appunto agli ucraini che uccidono 700.000 ebrei in un campo di concentramento che si chiama bebiar che fanno le cose che fanno i nazisti cioè massacrano la popolazione civile fanno di tutto ovviamente quando i sovietici riconquistano l'ucraina stalin ci mette il carico da 12 e quindi la fa ripagare di nuovo il risultato di tutto quanto questo è che khrushchev che eh presidente dell'unico sovietica che succede a stalin ucraino perché l'unico sovietica ha avuto molti politici importanti ucraini molti politici di potere dentro l'unico sovietico ucraini khrushchev è uno brezhnev è ucraino trotsky che ha fatto la rivoluzione insieme a lenin e stalin era ucraino quindi in ucraina ha dato un grossissimo contributo in quel senso lì insomma fatto sta che khrushchev decide di ricompensare gli ucraini per tutte le sofferenze che hanno avuto facendo che regalando regalando in una regione che ucraina proprio non era e che era la crimea che era popolata esclusivamente da russi l'ha presa e l'ha regalata l'ucraina questo è nel 56 circa se non sbaglio e questa cosa qui ovviamente ha creato voi immaginate gente presa spostata i polacchi che diventano ucraini anzi sovietici che poi si ritrovano in ucraina i russi della crimea che improvvisamente vengono presi e regalati all'ucraina ma al tempo in realtà nessuno ci faceva caso almeno dentro l'unione sovietica perché il paese era uno non c'è la differenza tra ucraina e russia non è solo una differenza totalmente formale insignificante e il problema è che nel 92 l'ucraina diventa un altro paese e i russi che si trovano là dentro improvvisamente si sentono in un paese che che non è il loro solo che fino a un certo punto della storia tutti i presidenti sono succeduti non hanno fatto nulla contro i russi perché perché venivano da quella tradizione venivano dalla tradizione sovietica e quindi conoscevano il meccanismo conoscevano la loro popolazione erano in parte russi anche loro quindi non non parlavano russo tutti quanti parlano ancora russo tutti quanti quindi non questa cosa non si è sentita questa cosa si è sentita in maniera drammatica letteralmente drammatica quando c'è stato il golpe del 2014 lì e cambiò tutto ecco fermati un attimo mettiamo anche il pezzettino che manca diciamo nell'89 crolla il muro di berlino nel 91 l'ucraina diventa indipendente dichiarà la propria indipendenza il 91 quindi previene 92 insomma sì ok in modo in modo pacifico sereno diciamo tra 92 e il 2014 velocemente perché ci manca questo tratto tra 92 e il 2014 improvvisamente c'è una fase di nazificazione dell'ucraina mi spiego meglio allora questi nazisti che avevano collaborato con la germania italiana che si erano macchiati di crimini di guerra sono per la maggior parte riusciti a scappare come sono riusciti a scappare gli stati uniti li hanno fatti scappare molto semplicemente e molti loro sono finiti proprio negli stati uniti c'è una città per esempio negli stati uniti che si chiama parma che è una città di 90.000 abitanti che è abitata da ucraini da criminali di guerra ucraini e da loro nipoti da loro figli nipoti e così via allora nel 92 è incominciato il ritorno della di questa sorta di diaspora nazista e piano piano i nazisti i loro figli i loro nipoti i molti ideologizzati sono tornati in ucraina ed è incominciata questa nazificazione che per gli ucraini è una sorta di perché il nazionalismo ucraino è totalmente nazificato dal punto di vista ideologico cioè loro hanno esattamente l'ideologia nazista i nazionalisti perché vengono da lì cioè quella è la loro nascita quindi quello è il loro imprinting che hanno avuto e hanno incominciato piano piano sono tornati questi i quelli i galiziani cioè quelli di leopoli del viv che erano profondamente anticomunisti e così via si sono hanno cominciato a sviluppare anche loro questi ad appoggiare questi partiti di estrema destra e lentamente nel corso degli anni le piazze le città dell'ucraina hanno incominciato a popolarsi di statue che rappresentavano i leader nazionalisti degli anni 30 e 40 cioè esattamente i leader nazionalisti nazisti cioè i collaborazionisti hitler è come se improvvisamente in italia incominciasse a spuntare le statue di mussolini no ovunque immaginate una cosa del genere e nei libri di testo è cambiata la storia cioè non l'ucraina non è diventata più antinazista antifascista è diventata un'altra cosa perché erano i fascisti quelli che piano piano stavano che prendevano voti che occupavano posti in parlamento il partito svoboda che è un partito neonazista ha nel nel prima del 2014 aveva superato il in alcune zone per esempio appunto in galizia aveva quasi il 40 per cento dei voti quindi stiamo parlando di una grosso seguito popolare in in alcune aree del 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 paese e questo passaggio è passato anche attraverso un presidente nel 2004 quando ci fu la rivoluzione arancione il presidente che andò al potere che era quello tutto quanto butterato non so se vi ricordate che è stato avvelenato avvelenato dal kgb insomma dai russi e lui era figlio di un collaborazionista dei nazisti e sua moglie che era americana però era americana e ucraina sua moglie era proprio nazista vera nel senso che lei è stata eh fotografata è stata filmata anche intervistata negli anni precedenti vestita con la divisa delle ss che faceva il saluto romano cioè stiamo parlando di questi personaggi qui loro sono andati loro addirittura diventano presidente first lady poi non ci restano per molto tempo però questo processo c'è stato cioè nel 2014 non è che il golpe nazista è arrivato così perché dei nazisti hanno preso il potere è stato un lungo processo che ha molto preoccupato i russi e ovviamente dopo il 14 questa preoccupazione nel frattempo c'era c'era gli stati uniti che spingevano sia per portare l'ucraina nell'asso occidentale sia più in generale per circondare la russia delle delle nazioni che entrano nella nato perché dalla lettonia e lituania estonia e ungheria tra 2004 e il 2009 mi sembra 7 8 paesi che prima facevano parte dell'unione sovietica diventano di colpo della nato esattamente esattamente e gli stati uniti l'hanno fatto per allargare la nato e per stringere perché esiste comunque una parte del dell'establish americano che è rimasto alla guerra fredda cioè è rimasto antirusso perché era anticomunista e antisovietico e quindi è quello che stanno facendo cioè l'hanno portato avanti per 30 anni questa storia qui gli americani ovviamente hanno scatenato i nazisti che avevano salvato quindi li hanno portati lì li hanno li hanno aiutati li hanno armati li hanno fatto i tutto fino ad arrivare a organizzargli perché questo hanno fatto mettendo in campo gladio che un un corpo diciamo speciale una sorta di corpo speciale della nato anche se compie solamente stragi e colpi di stato e assassini scatenando gladio nel nel golpe appunto di maidan nel 2014 ecco che cosa succede diciamo inverno 2013 novembre dicembre 2013 gennaio febbraio 2014 che cosa succede in cinque in cinque riga ovviamente allora succede che il governo ucraino che aveva chiesto di entrare nell'unione europea improvvisamente ci ripensa ci ripensa per due motivi ci ripensa perché da una parte i russi offrono il governo ucraino era in difficoltà economica i russi offrono dei prestiti convenienti poi i russi l'ucraina è legata economicamente alla russia quindi gli russi gli hanno offerto gas petrolio tutta una serie di cose più dei prestiti molto convenienti molto più convenienti dell'unione europea e poi l'altra cosa loro si rendono conto che l'unione europea voleva dire perché l'unione europea aveva posto una serie di condizioni tra cui questi prestiti del fondo monetario internazionale della banca mondiale che non che assomigliavano molto a quello che fa che fa la troica non so come dire cioè noi diamo i soldi però poi decidiamo noi tutte le riforme che dovete fare e quindi per questi due motivi improvvisamente c'è una retromarcia da parte del presidente ucraino e questa cosa scusa che era yanukovic che era diciamo si cercava di tenersi in equilibrio fra russia occidente finché non ha fatto la scelta di rinunciare all'accordo con l'europa giusto esattamente tant'è vero che lui non era tant'è vero che lui aveva chiesto l'entrata nell'unione europea quindi non era un un filo russo un antico semplicemente si è reso conto sul piatto dice una parte pago i prestiti sono molto più alti se entro nell'unione europea che nella russia russia mi dà moltissime vantaggi anche di tipo economico di vario genere dall'altra c'è questa sorta di troica fondamentario banca mondiale che pretendono da me mi danno i soldi ma poi pretendono da me che devo di comandare in casa mia e quindi no non mi sta bene cioè lui ha fatto una semplice decisione che abbiamo fatto pure noi in italia in tanti altri paesi europei e questa decisione però comportava il fatto che rinunciava temporaneamente all'entrata dell'unione europea questa cosa ha scatenato la piazza maidan che la piazza centrale di kiev si è riempita di manifestanti ma inizialmente si è riempita di manifestanti manifestanti colorati c'erano i sindacati c'erano le associazioni di omosessuali c'erano i comunisti c'era un sacco di gente no che però che tra le varie cose lo accusavano anche di corruzione come diciamo fanno anche in italia che accusano i nostri politici di essere corrotti insomma in qualche modo quindi non c'era nulla di strano nulla di nuovo il problema è che questa piazza molto colorata nel giro di qualche settimana è diventata nera perché sono arrivate queste squadracce neonaziste principalmente di due gruppi c'è il partito sfoboda questo partito di stampo nazista che sta in parlamento che ha tantissimi parlamentari e poi pravi sector che invece era un partito extra parlamentare formato da circa 15 mila membri che sono membri paramilitari cioè proprio sono le vecchie camicie brune del di hitler non saprei cioè gli squadristi veri e propri quindi pravi sector sfoboda sono entrati nella piazza e l'hanno occupata l'hanno occupata militarmente cioè hanno cacciato fisicamente tutti quanti gli altri li hanno picchiati li hanno minacciati qualcuno l'hanno anche fatto fuori alla fine la piazza è diventata una piazza nera e le cose sono cambiate completamente perché la piazza colorata e pestante seppur in protesta è diventata una piazza molto pericolosa molto violenta sono incominciati gli scontri con le forze dell'ordine che hanno fatto alzare sempre più i decibel anche perché nel frattempo sono arrivati a kiev gli uomini di gladio ovvero militari nemmeno paramilitari veri e propri venuti dalla georgia dalla lituania dalla polonia e da altri paesi armati che hanno il compito di aizzare queste squadracce contro la polizia creare lo scontro creare i morti in ogni occasione e poi nel febbraio alla fine di tutto quanto questo processo sono proprio messi i cecchini di gladio quindi non ucraini ma gente che veniva appunto dalla georgia dalla lituania principalmente georgia lituania e e polonia sono messi questi cecchini alle finestre di una serie di edifici tra cui un albergo un conservatorio e così via e per ordine di un ufficiale americano hanno incominciato a sparare sulla folla a sparare sia sui manifestanti sia sulla polizia uccidendo gli uni e gli altri facendo un massacro oltre 100 morti questo massacro è stato attribuito subito alla russia è stato attribuito al presidente che filo russo non era però insomma questo presidente che insomma si era schierato in qualche modo dalla parte della russia per i motivi che ho spiegato prima è lui che ha deciso di massacrare la gente è un assassino va cacciato via non merita di stare dove sta e poi ovviamente la russia perché lui è il la russia il mandante di questa di questa strage cosa era esatto l'esatto opposto ma non ha nessuna importanza il giorno dopo il presidente è stato costretto presidente democraticamente eletto vorrei sottolineare questa cosa e l'anno successivo ci sarebbero state le elezioni quindi sarebbe stato tranquillo diciamo tranquillamente potuto essere trombato alle elezioni però fatto stare questo presidente democraticamente eletto è stato costretto a scappare letteralmente il giorno successivo se no l'avrebbero fatto fuori e si è rifugiato in russia giusto si si è rifugiato in russia perché insomma a quel punto arriva poroshenko prima c'è un governo intermedio di un paio di mesi mi sembra poi arriva poroshenko il quale dichiara apertamente guerra ai russi ucraini a quel punto cioè parte la controffensiva vai vai procedi poi esattamente cioè la cosa che accade è che i russi si spaventano tantissimo perché assistono loro loro capiscono quello che sta succedendo non è che si rendono conto di quello che accade noi occidentali non abbiamo capito loro ovviamente stando lì l'hanno capito perfettamente quindi si spaventano anche perché hanno seguito tutto quanto il processo storico che vi ho raccontato che ha portato a quel punto in più il nuovo governo nel nuovo governo entrano ben 4 4 di questi leader nazisti tra cui il leader di pravi sector il leader di svoboda e così via entrano come ministri del nuovo governo ci sono ben 4 persone che sono dichiaratamente non sono nazisti perché sono di destra sono proprio nazisti cioè nazisti perché hanno la svastica perché perché pensano che hitler sia stato il più grande uomo della storia perché nei loro pensieri ideologici sono identici a quello che c'è scritto nel Mein Kampf non saprei come altro spiegarli sono nazisti e ben 4 di loro diventano ministri tra cui il ministro dell'interno in più il presidente del parlamento ucraino diventa un nazista quindi intanto questa cosa spaventa ulteriormente spaventa ulteriormente il fatto che cominciano a fare delle leggi in cui il russo non è più la lingua la lingua ufficiale dell'ucraina i russi c'era la più seconda lingua perché prima era una lingua immaginate ci sono milioni milioni di gente russa che l'ucraina non sa manco come come si parla e quindi era normale parlavano tutti russo parlavano tutti russo quindi anche gli ucraini parlavano russo e quindi loro con questa decisione qui però diciamo mettono già in difficoltà la popolazione e fanno capire in che direzione si va dopodiché i russi non possono lavorare per lo stato perché sono dei traditori e il partito comunista viene dichiarato illegale quindi immaginate un partito comunista che stava in parlamento che ha un grande seguito in presente diventa illegale e quindi comunisti dei criminali sostanzialmente quindi quando putin dice de nazificare l'ucraina non è che parli a caso no cioè parla proprio tecnicamente di de trattino nazificare l'ucraina esattamente esattamente si riferisce a questo e la e ovviamente i russi si spaventano quindi ci sono quelli della crimea che dicono no noi visto che noi non con l'ucraina non abbiamo nulla nella nostra storia in comune con l'ucraina siamo stati proprio presi di forza khrushchev 50 anni fa e messi nell'ucraina ma insomma l'abbiamo accettato all'epoca perché non valeva nulla e adesso ce ne vogliamo proprio andare perché non ci vogliamo stare in questo paese fanno un referendum essendo tutti russi il 97 per cento vota per andarsene via e se ne vanno via vengono subito annessi alla russia poi sono gli altri che i russi diciamo tendenzialmente abitano nella parte meridionale e orientale del paese diciamo lì sono maggioranza proprio nella popolazione e hanno detto pure noi ce ne vogliamo andare via questa cosa non è stata presa molto bene c'è stata un escalation sono incominciate a esserci pestaggi uccisioni per strada sparizioni come accadeva saprei in argentina o in cile negli anni 70 e quindi a un certo punto alcuni i russi di alcune zone dell'ucraina quelle appunto più russificate hanno detto benissimo noi non vogliamo stare in questo paese ci stacchiamo da questo paese e lì è iniziata la guerra vera e propria tra l'altro scusa gli accordi di Minsk prevedevano che Donetsk e Lugansk cioè le due più importanti province del Donbass avessero uno statuto indipendente cioè che potessero in qualche modo staccarsi ma gli accordi di Minsk ovviamente non vengono rispettati nel momento in cui gli ucraini di Kiev cominciano a bombardare quelli del Donbass esattamente ma gli fanno una guerra proprio una guerra pesante perché è una guerra fatta non solo dall'esercito ucraino e sono 8 anni che sono in guerra 14.000 morti ma vengono fatti da arrivano nazisti anche qui non gente nazisti o in qualche caso in qualche caso anche fascisti però tendenzialmente nazisti da tutta Europa e incominciano a essere inquadrati dentro dei battaglioni il più famoso di questo si chiama ZOV ma non è l'unico cioè sono almeno 6-7 di questi battaglioni di nazisti che fanno delle cose turpi io mi è capitato di intervistare un italiano si chiama Fontana è un milanese io lo racconto nel libro questo italiano è andato lì ha partecipato alla strage odessa ha fatto un sacco di altre cose di schifezze assurde lui è un amico era un amico di delle chiaie finché delle chiaie era in vita quindi dà l'idea insomma di che personaggio stiamo parlando questo italiano fa queste cose ma quando torna in Italia fa una vita normale allora in Italia è reato chi è andato a combattere in Siria da qualunque parte abbia combattuto ha commesso un reato quando queste persone sono tornate sono state messe sotto processo invece chi è andato a combattere in Ucraina no perché questo Fontana è protetto dai nostri servizi segreti cioè i nostri servizi segreti gli hanno detto senti vai lì non ti preoccupare non ti facciamo nulla quindi c'è un coinvolgimento dell'Occidente dei nostri servizi in queste stragi in qualche modo le abbiamo tollerate e abbiamo mandato i nostri uomini lì perché sono andati migliaia a combattere ma non è finita lì insieme all'esercito ucraino udite udite ha combattuto un battaglione dell'ISIS allora voi dite che cosa c'entra l'ISIS? infatti stavo per chiedertelo perché anch'io quando ho visto il capitolo sull'ISIS ho pensato di aver sbagliato il libro per un attimo questa connessione proprio mi ha sorpreso tantissimo parlane allora in effetti è per me anche per me è stata assurda scoprire questa cosa allora l'ISIS per creare un suo stato ha bisogno di un esercito l'esercito non si fa con i kalashnikov con le armi leggere l'esercito si fa con i cararmati i cannoni le armi pesanti e queste armi provenivano dall'ucraina cioè l'ucraina che ha fornito le armi all'ISIS allora come perché l'ISIS è andato a combattere l'ucraina perché le zone diciamo russofone sono esattamente le zone più ricche del paese perché lì ci sono le viniere ma anche più industrializzate è come se fosse il nostro nord no immaginate la lombardia il veneto il piemonte e così via e il in particolare la città di nipo pietrovsk che si trova nel nord est del paese è la città dove c'è durante l'unione sovietica lì è la città dove c'è il complesso militare industriale sovietico lì si facevano i missili che andavano anche nello spazio insomma si costruivano gli aerei gli aerei più moderni e così via ed è continuato ad essere lì tutta concentrata la produzione di armi pesanti di armi tecnologiche ucraine quindi c'era bisogno di liberare nipo pietrovsk e gli ucraini gli hanno detto scusate però dobbiamo liberare questa città per voi venite a combattere e quindi un battaglione dell'ISIS si è presentato lì a combattere a fianco dell'esercito per avere in cambio delle armi loro per avere in cambio le armi cannoni cararmati tutto quello che gli è servito all'ISIS per conquistare il suo stato per fare la guerra la guerra quella vera quella pesante le armi venivano esattamente da nipo pietrovsk la la cosa che particolare che lega quell'episodio a oggi è che il allora il governatore della provincia di nipo pietrovsk era un certo kolominski chi è quest'uomo è un oligarca perché noi parliamo sempre gli oligarchi russi ma ci sono pure quelli ucraini è un oligarca è un uomo ovviamente ricchissimo è stato addirittura presidente della delle comunità ebraiche europee quindi insomma perché lui è cittadino ucraino cittadino cipriota del cittadino israeliano a tre nazionalità allora quest'uomo ovviamente ebreo perché cittadino israeliano tra le tante cose e era presidente della provincia quando appunto l'ISIS ha invaso la cosa e lui ha favorito questa cosa è l'uomo che ha sotto contratto cioè sono suoi dipendenti uno di questi squadroni neonazisti ucraini sono suoi dipendenti cioè lui li finanzia e ha messo a disposizione uno di questi il suo squadrone a odessa nel maggio del 2014 quando ci fu la più grande strage che c'è mai stata in europa a parte quella di srebrenica della seconda guerra mondiale oggi quest'uomo appunto quest'uomo che ha le mani sporche di sangue veramente sporche di sangue e l'uomo che ha finanziato tutta la campagna elettorale ha permesso a lui di essere eletto a al al presidente zelensky quindi questo forse potrebbe chiarire un pochettino perché si dice a me come fa un ebreo intanto zelensky le guardie del corpo di zelensky sono quelli di bravi sector quindi sono ne sono nazisti no presidente ebreo con le guardie del corpo naziste ma le cose sono un po più complesse di quello che sembra uno pensa i nazisti ebrei non possono andare insieme evidentemente c'è ci sono dei luoghi in cui queste cose possono funzionare e kolominski e la sua la sua storia lo dimostrano quindi non è un ebreo qualsiasi al di là del fatto che un ebreo israeliano ma è un ebreo che ha un ruolo importante nella comunità ebraica ucraina e anche in quelle europee addirittura altro argomento che mi ha incuriosito molto tre parole Biden Kerry Burisma allora Burisma è la più grande società di gas ucraina e una società peraltro con sede a cipro quindi quando uno dice una società con sede a cipro è come dire a sede nei caraibi in qualche paradiso fiscale sono quelle società opache anche perché questa società opaca è diciamo è di proprietà in qualche modo di questo kolominski cioè di questo oligarca di cui ho appena parlato è una società che ha puntato tutto quanto sulla produzione di gas scisto di cui l'ucraina è leader mondiale in ucraina ci sono le più grandi riserve di gas del pianeta che però non vengono utilizzate perché perché si trovano sotto le case e allora quando ci fu il golpe del 2014 come mi ha detto gli Stati Uniti hanno dato una mano in tanti modi hanno anche messo su questo questo colpo di Stato e questo colpe è potuto avvenire anche perché un uomo politico molto importante americano ha garantito il la protezione degli Stati Uniti d'America e questo uomo politico era l'allora vicepresidente Joe Biden Biden si presentò addirittura una sorta di vertice facendo un volo diretto da Washington fino a Odessa questo vertice si tenne il primo maggio del 2014 e a questo vertice parteciparono Biden che è strano il vice stiamo parlando non di un politico qualsiasi il vice presidente degli Stati Uniti quindi che doveva passare per Kiev a salutare il presidente no dritto dritta Odessa che è già una cosa stranissima questa e parteciparono vertice lui il ministro dell'interno ucraino nazista il prefetto di Odessa e poi il diciamo il capo della criminalità organizzata locale quindi il boss mafioso di Odessa ecco questi quattro personaggi si incontrano quello che si sono detti non si sa però fatto sta che il giorno successivo a Odessa avviene una strage una strage compiuta dalla polizia dalla polizia proprio indivisa e non è non poliziotto infiltrati però la polizia indivisa dalle squadracce neonaziste di previ sector e dagli ultra della squadra locale di calcio e poco dopo poco dopo la Burisma assume due nuovi consiglieri di amministrazione uno è il figlio di Joe Biden che notoriamente non ha mai avuto nulla a che fare col gas e con l'energia quindi è come dire una sorta di in molti ambiti si potrebbe pensare a una forma di corruzione nel senso che una cosa del genere non sarebbe possibile per esempio in Italia un legame del genere sarebbe adesso non conosco il termine tecnico giuditico ma insomma è una forma di corruzione non con i soldi ma dando un posto di potere nella più importante società del gas del paese una delle più importanti del mondo e l'altro è un personaggio che non solo è stato l'assistente di carri quindi un braccio destro di carri che all'epoca era ministro degli esteri ma è stato anche l'amico di università e l'amico quasi fraterno del figlio di carri quindi queste due persone entrano nel consiglio di amministrazione del di questa importantissima e ricchissima società nel paese che ripeto alle più grandi risorse di gas del pianeta così senza motivo perché la società era ucraina subito dopo il colpo di stato e la strage di Odessa ma sono coincidenze sono coincidenze bisogna fare sempre i complottisti franco tra l'altro mi ricordo appunto quell'episodio nel quale poi c'era un procuratore di Kiev che stava indagando sulla connessione di su hunter biden praticamente è intervenuto direttamente il vice presidente degli stati uniti facendo rimuovere quel procuratore sì è lui stesso biden se ne è vantato da se non lo sapremmo davanti ai microfoni mi sembra alla alleanza non mi ricordo quale council for atlantic uno di questi consigli di think tank imperialistiche dei quali lui fa parte sì esattamente è noto per le sue gaffe quindi questo si vantava proprio sono arrivato lì e in tre minuti pam hanno tolto il procuratore visto come sono potente bravo e scemo a raccontarlo a tutti senti un'altra cosa di cui parli tu che già avevi accennato ai biolaboratori quando parliamo del covid adesso c'è l'aspetto ultimo che cosa c'è di vero in queste scoperte barra distruzione dei biolaboratori americani negli ultimi giorni da parte dei russi allora in gli stati uniti per ordine dell'allora presidente george bush stiamo parlando del 2005 hanno deciso di costruire adesso si stava una cifra già più precisa oltre 350 laboratori militari biolaboratori militari che costruiscono che fanno costruiscono armi biologiche quindi armi di distruzione di massa come il SARS-CoV-2 né più né meno e li hanno sparsi per il mondo questi laboratori dal 2014 in poi prima si pensava fossero 17 adesso si è saputo che sono 30 ne hanno costruiti ben 30 in ucraina questo dà anche l'idea di quanto sia indipendente quel paese perché l'ucraina notoriamente non sta nella nato quindi non si capisce a che titolo gli americani possono costruire dei laboratori militari che sono territorio americano non sono territorio ucraino in ucraina piazzandone la maggioranza lungo il confine russo allora i russi nel corso degli ultimi anni hanno protestato molto per la presenza di questi biolaboratori e nessuno se li è mai filati sono arrivati addirittura a fare una richiesta ufficiale al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite quindi all'organo mondiale più importante che esista chiedendo di istituire una commissione e di mandare questa commissione a ispezionare questi laboratori e a smantellarli perché non avevano ragione d'essere perché poi questi laboratori hanno provocato tutta una serie di di focolai di epidemie dovuti alla fuoriuscita di materiale da questi laboratori sempre in Russia perché stavano a confine quindi diciamo hanno infettato un po' di russi ammazzandone anche parecchi e una delle cose che ha fatto la Russia adesso invadendo l'ucraina è andare a beccare questi laboratori uno a uno per smantellarli e per appropriarsi di quello che c'era dentro tant'è che gli americani a un certo punto prima hanno negato qualsiasi cosa dice no non è vero non abbiamo assolutamente nulla questa è la propaganda dei russi poi a un certo punto messi con le spalle al muro hanno dovuto addirittura fare un appello cioè hanno lanciato un appello dicendo per favore fate attenzione perché lì ci sono delle armi delle bombe cioè ma quindi è vero che è arrivato l'ordine di distruggere diciamo le 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 culture virali che avevano sì 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 beh ragazzi ma io non so quando il mondo si rende racconto di 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 a che tipo di gente siamo in mano secondo me molta gente non vuole neanche saperlo a questo punto è molto più bello vivere guardando carosello perché se se pensi a queste cose cioè il problema cosa diventa che 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 Putin ha invaso l'Ucraina cioè è veramente l'ultimo dei problemi questo sì al di là del fatto che allora eh io da buon pacifista ho eh ho avuto orrore dell'invasione però al tempo stesso eh è qualcosa di non giustificabile ma comprensibile perché veramente hanno provato sono anni anni e anni e anni che provocano la russia in ogni modo e eh fanno delle cose orribili ai russi che hanno le loro le loro famiglie oltre frontiera ci sono in russia negli ultimi otto anni sono arrivati qua oltre due milioni di profughi di profughi a proposito dei profughi che ci sono adesso oltre due milioni di profughi russi sono finiti in russia disperati perché non c'è di ucraini russi stai dicendo di ucraini russi esattamente oltre due milioni di persone c'è stato un esodo un allora uno non può non tenere conto di queste cose e poi ci aggiunge il fatto che viene firmato un trattato viene fatto un accordo nel nel 1991 a Bonn siglato anche dagli americani e da dalla Germania alla Francia al Regno Unito e in questo accordo si dice non si allargerà ad est la nato perché la russia chiede fate come mi pare ma basta che eh c'è una zona cuscinetto perché gli americani non accetterebbero mai che il messico diventasse un alleato militare strategico della russia ovviamente no quindi eh e invece gli americani come al solito fanno quello che gli pare perché le regole valgono per tutti i paesi del mondo tranne che per gli stati uniti d'america e quindi hanno incominciato a allargare la nato eh e l'hanno detto non era nemmeno una minaccia ce l'hanno detto in tutti i modi stiamo facendo tutte quante le pratiche per far entrare l'ucraina nella nato e a quel punto è come agitare una un drappo rosso di fronte al toro questo è quello che è successo ultimissima domanda il ruolo di soros in tutto questo allora soros è ehm diciamo un filantropo con le le istituzioni a cui pare a lui cioè come giustamente un privato fa come gli pare però è una cosa molto unidirezionale perché soros è un ungherese e come molti ex cittadini dell'europa dell'est è profondamente anticomunista e quindi antirusso eh e lui ha dedicato tutta quanta la sua vita a essere filantropo sì ma filantropo unidirezionale nel senso che ha privilegiato tutte quelle entità politiche associazionistiche che hanno come scopo quello di eh non dico combattere la russia ma quantomeno dargli fastidio e lui ha fatto queste cose anche in ucraina e quindi la la rivoluzione arancione per esempio del 2004 ha molto dell'impronta di soros nel senso lui è l'argia appiene si svuotò le tasche per finanziare quella rivoluzione arancione e e l'ha fatto comunque in tutti quanti questi trent'anni e e molte delle associazioni delle organizzazioni non governative che operano in in ucraina operano grazie ai soldi di soros tra l'altro la nulland mi sembra a un certo punto aveva anche detto vittoria nulland eh abbiamo investito 5 miliardi di dollari nell'ucraina non è che adesso la lasciamo andare così cioè la considerano proprio un territorio loro vittoria nulland era il sottosegretario di stato quindi vice ministro degli esteri che si occupava in particolare era responsabile di tutta l'area che riguardava l'ex unione sovietica quindi la russia tutti quanti i paesi circostanti e parte dell'europa e la nulland è un ex dirigente della cia e in particolare comandava la sede cia di mosca ecco tra l'altro proprio oggi si è vantata finalmente negli stati uniti ha detto dichiaro ufficialmente che il gasdotto nord stream 2 è morto e un temo che e penso che non sarà mai più resuscitato contento ovviamente di questa dichiarazione la gioia ovviamente perché tanto le bollette non le paga lei esatto esattamente bene il come al solito il tuo libro per comprarlo bisogna scrivere a te personalmente giusto esattamente bisogna scrivere non c'è altro modo franco fracassi 1 a numero chiocciolagmail.com franco fracassi 1 chiocciolagmail.com considerate che in questo momento il libro è in stampa quindi sarà fisicamente pronto ci vuole qualche giorno quindi diciamo inizio della settimana metà della prossima settimana e dopodiché chiunque lo vorrà lo potrà prendere io ho deciso questa volta per tutti quelli che comprano il libro anche di dargli in omaggio un film perché un film perché ho deciso questa cosa perché è un film che ha molto a che fare con queste vicende si chiama la fabbrica delle rivoluzioni e racconta tra le varie cose la rivoluzione 2004 in ucraina e racconta il metodo che usano gli americani per sovvertire i governi in tutto il mondo dal 2000 in poi va bene grazie franco è stato un piacere come al solito ci risentiamo presto immagino a questo punto buona serata ciao